e adesso cambia la console è in console da questo momento in poi il fratello, nostro fratello con la musica nel cuore Alex P! scusate ragazzi prima di continuare è passato un anno, un anno dalla scomparsa di un fratellino che si chiamava Riccardo Digi un applauso grazie per ricordarlo grazie, si continua con Alex P! grazie a tutti 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 a tutti grazie 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 a tutti salutiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti